Dagli episodi più fecondi vissuti nella penisola coreana all'alba della sua evangelizzazione a quelli più dolorosi, marcati dalle prime persecuzioni in cui la luce del Vangelo attraverso il sacrificio dei tanti martiri della fede in Cristo non ha mai smesso di brillare, fino ai nostri giorni con la partecipazione della chiesa ai movimenti sociali. È questa la storia che emerge dalla mostra Come in cielo così in terra, Seoul e i 230 anni della chiesa cattolica in Corea, allestita nella suggestiva cornice del braccio di Carlo Magno in Vaticano. Inaugurata all'inizio di settembre grazie alla collaborazione tra la Santa Sede e l'Arcidiocesi della capitale della Repubblica di Corea, la mostra conta 183 opere in gran parte provenienti dal Seoul Museum of History. Alle sculture e ai dipinti affascinanti testimonianze dell'incontro fra la tradizione figurativa coreana e quella cristiana si alternano le prime traduzioni dei quattro Vangeli, di libri di preghiera e di testi devozionali. Ad arricchire il percorso della mostra sei opere della collezione etnologica dei Musei Vaticani. La più preziosa è questa lettera su seta in cui si descrive la persecuzione dei cristiani avvenuta nel 1801, donata a Papa P XI nel 1925 in occasione della beatificazione dei martiri coreani. Con noi il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta. È un progetto che noi abbiamo condiviso già da tempo con la Repubblica di Corea e con l'Arcidiocesi di Seoul. È chiaro che è un messaggio di pace, vuole essere un messaggio di pace ma era nata come messaggio di pace, per cui ancora meglio in questi giorni è un ulteriore segnale che forse proprio in questi giorni doveva esserci una mostra del genere nel cuore del Vaticano. Secondo il manager del Seoul Museum of History, Park Sang Bin, tra le opere più toccanti spiccano gli oggetti appartenuti ai primi martiri coreani, segni evidenti della loro fede incrollabile nel Signore. Su questa parete alla vostra sinistra ci sono oggetti sacri, rosari, anelli, manifestazioni della vita della comunità dei fedeli cristiani durante la persecuzione. Quando venivano a sapere che sarebbero stati arrestati, nascondevano questi oggetti dentro i vasi di ceramica o sotto il fondo, nella terra. Poi scappavano. Quando tornavano cercavano di ritrovarli. Noi siamo riusciti a recuperare questi oggetti. Sono stati restaurati e, a mio parere, sono le opere più preziose esposte in questa mostra. Ad ingresso gratuito fino al 17 novembre, questa mostra consente al pubblico e ai pellegrini di tutto il mondo di conoscere una storia fatta di coraggio e spiritualità, che ancora oggi è in grado di infondere speranza all'intera penisola coreana, come ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore per le comunicazioni sociali nell'Arcidiocesi di Seoul, padre Matthias Har-Yang Yap. È importante sottolineare una cosa. Non bisogna dimenticare che la Corea è l'unico paese diviso in nord e sud. Ecco, qui in Vaticano voglio esprimere in modo particolare il desiderio di cercare la pace per la nostra terra. La Corea ha sempre intrattenuto una collaborazione forte con la Santa Sede. Tutto questo per me rappresenta una preghiera, un momento particolare, un auspicio affinché le due Coree tornino unite.